Nei boschi intorno a Trento, le squadre dei forestali a caccia di M49, l'orso clamorosamente evaso ieri da un recinto elettrificato. Silvano Ploner. I forestali lo stanno cercando nei boschi di tutta la regione, ma M49, l'orso fuggito ieri dal recinto in cui era stato rinchiuso, scavalcando quattro barriere elettrificate, potrebbe essere ovunque. La sua evasione è stata un'impresa considerata fino a ieri da tutti i tecnici impossibile. Ora il plantigrado è in fuga e trovarlo senza radiocollare sarà molto difficile. Potrebbe anche essersi nascosto, provato dalle scariche elettriche nei boschi adiacenti la città di Trento. Capre, galline e pollai rappresentano il bottino di caccia preferito dall'animale e soprattutto gli agricoltori non sono tranquilli. Dicono che è così pericoloso. Speriamo che sia lontano. In città oggi è in programma un vertice tra l'ISPRA, l'ente ministeriale che si occupa di orsi, e la provincia. Sul tavolo il bisogno di conciliare posizioni lontane, con il Trentino pronto ad abbattere l'orso qualora sia vicini a centri abitati. E sul fronte opposto il ministro Costa a difesa di M49, con cui si sono schierate compatte anche le associazioni animaliste ed ambientaliste.